ebbene si torna in campo amici di TGM la nazionale calcio tv stasera gioca sotto il segno della solidarietà e prima un po' di riscaldamento un po' di allenamento con questi giovani protagonisti perché la grande festa dello sport dove siamo a Mediglia in provincia di Milano guardatevi questa prima fase e poi i campioni, i campioni, i campioni, i campioni Cosa fate voi? Chi siete? Piccoli calciatori? E da grandi? Calciatori Cacciatori o calciatori? Grandi calciatori Piccoli calciatori Questa sera a Mediglia ragazzi tra i tanti sport molto originali c'è uno in particolare Tiro con l'arco Ragazzi a questo punto il campo parlerà il campo, questi campioni daranno il meglio di se stessi e cominciamo a presentarli Sono E poi E forza e forza E poi E ancora E ancora Questa è la squadra dei campioni nazionali calcio tv Fra pochi minuti il campo, la verità, la verità, la dirà solamente lui, Vittorio Fagioli, guardalo Ho già fatto dieci undicesimi della formazione che giocherà il giorno treggi contro i cantanti E non so se verrà convocato il signore Sentiamo cosa ne pensano i ragazzi in campo, gli sportivi che hanno fatto l'anteprima di questo pensiero di Vittorio Fagioli Vittorio Fagioli, il numero 12 è per il migliore E non so se verrà convocato il signore Qual è l'animale che preferisci tirare ogni tanto? Qual è l'animale? Vittorio Fagioli E non so se verrà convocato il signore Ah scusa l'ultima domanda Ma il loro bersaglio preferito qual è? Vittorio Fagioli E non so se verrà convocato il signore Mediglia risultato finale 2 a 2 È stata dura però la volontà di rimontare Mr. Wenger Mr. Wenger Insomma Bazzi ha dato al corso ma l'ha segnato C'è la verità, qua ragazzi sono giocatori come sempre, hanno lasciato l'anima in campo Sì, tutti tranne uno Anzi devo dire che giocavano sempre sulla nostra parte destra Chiaramente poi c'è stato Sai che a un certo punto i ragazzi fuori Quei ragazzi che hanno fatto la prima parte Hanno urlato Ciao Vittorio Fagioli Vittorio Fagioli, le piccole fans Piccole, grandi fans Allora, senta mister Una partita molto sofferente, molto bella e intensa E anche un allenamento diciamo per la prossima partita Cosa prevede? Prevedo che 10-11 la prossima formazione Non riesce anche a dirlo, ho visto Prossima formazione è già stata fatta Io direi un grande Marco Ananis Lei comunque è difficile che venga convocata La squadra che ha carattere Ha carattere, non ci stiamo a perdere Anche se si gioca per beneficenza Tu vuoi sapere di più? Nazionale Calcio TV punto It Ciao Maragnau